Ciao a tutti. Buongiorno a tutti. Siamo Simone Santilli e Nicola Benetton. Siamo un duo d'artista e da 2012 lavoriamo con il nickname di The Cool Couple. La nostra ricerca si concentra sui processi di produzione, condivisione e consumo delle immagini, con una particolare attenzione al ruolo che le nuove tecnologie giocano all'interno delle nostre vite. Il nostro approccio è caratterizzato da un'idea molto ampia di fotografia, che ci ha portato negli anni a spaziare dalla videoinstallazione alla fotografia fine art, dai videogiochi alle performance fino alle sculture e ai dipinti. Siamo corso leader per il corso di arti visive e docenti di fotografia per il corso del primo anno e di architettura video per il corso del terzo anno. Il nostro corso di fotografia si concentra sullo sviluppo di un progetto fotografico personale. Ogni anno il corso ruota attorno a un nuovo tema e ad esempio l'anno scorso abbiamo lavorato sull'idea di fake news. Quest'anno invece il tema sarà l'idea di confinamento e quindi l'esplorazione dei spazi domestici e il ruolo che le nuove tecnologie e i social network giocano nella creazione di nuove forme di socialità. A partire dall'idea quindi esploreremo assieme come sviluppare un progetto con l'analisi del linguaggio fotografico, criteri di selezione per le immagini, la creazione di una sequenza e i possibili output che abbiamo a disposizione, quindi libri, mostre o output su porti digitali. A questa parte pratica affiancheremo una parte teorica che si concentrerà sull'analisi di case studies di autori fondamentali del panorama della fotografia contemporanea. Il corso di architettura video del terzo anno è finalizzato alla produzione di elaborati video a supporto delle tesi di laurea ed è strutturato in due parti. Nella prima affrontiamo tutto quello che riguarda la preproduzione di un video, quindi dall'ideazione al soggetto passando per sceneggiatura e storyboard affrontiamo tutti quei passaggi che ci mettono nelle condizioni di girare un filmato. La seconda parte del corso si concentra invece sul girato prodotto dagli studenti. Affronteremo tutto quello che riguarda il montaggio, la post-produzione video e audio, capiremo ad esempio quali sono i passaggi salienti di un'intervista, col fine di produrre un elaborato finale che sia in grado di ampliare o completare il progetto di tesi. Ci vediamo a MADE!